Il grande orso cattivo, quando si risveglia... Ha tanta fame. Ha tanta fame? Qual è quella cosa che il grande orso cattivo preferisce? Un topolino in un sol boccone. Ma è sicura che sia così cattivo? Lei è Celestino. Questo è il suo mondo, il mondo di sotto, dove si sente sola e abbandonata. Lui è Ernest. Ho fame. Questo è il suo mondo, il mondo di sopra, dove si sente poco amato. Le loro vite sono lontanissime l'una dall'altra. Fuori, non vogliamo toppi qui! Ma ora, tutto sta per cambiare. Come ti chiami? Ernest. Io sono Celestine. Ernest? Sei stata tu a farlo entrare qui? Ma che ha fatto di male, Celestine? Ha portato un orso però in mezzo a noi. Non ci fermeremo finché non avremo trovato Ernest, il ladro, e la sua complice... Non ti preoccupare, Celestine. Non ci troveranno mai. Un orso e un topo è una cosa che non va bene.